Buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati nel vostro bomber nero azzurro, è finita a Pisa, l'arena Garibaldi tra Pisa e Empoli, il derby toscano finisce 1-1 a parti pari, un punto per uno che sicuramente fa più bene al Pisa che all'Empoli perché il Monza pare abbia vinto e guadagna due punti, le altre da parte il Cittadella ha perso quindi la classifica rimane ancora a parti invariate, l'Empoli sarà chiamata a vincere la prossima venerdì, che dire è stato un bel derby, è stato veramente un bel derby, ritmi intensi, ritmi elevati, la sblocca Birindelli, lasciato solo praticamente una prateria, complice anche Brignoli sul gol perché è un portiere che prende il gol sul suo palo, è complice, è complice del gol. Poi anche il terzino dell'Empoli è stato ingenuo, troppo morbido nel contrasto, si è fatto saltare da Birindelli, Birindelli che è dotato di grande corsa, di grande controllo palla, l'ha buttata dentro. Come ho sentito anche il mio amico di Empoli che mi ha detto che il Pisa meritava la partita e posso dire che occasioni nitide ne abbiamo avute più noi che loro, anche se loro hanno sbagliato tanto, hanno sbagliato tanto sotto porta perché prima del gol del pareggio di Zurkovski, attaccante polacco, prima del pareggio hanno sbagliato tantissimo, tantissimo, è tanto vero che in live dicevo attenzione, attenzione ripetute volte, attenzione, noi rimaniamo concentrati con la testa e abbiamo concesso una voragine a sinistra, a destra scusatemi, a destra per il gol di Zurkovski. Che dire, io ragazzi un punto meglio di zero, poi con la prima in classifica tanto di guadagnato, ne guadagniamo sicuramente più noi che l'Empoli perché il Monza pare abbia vinto oggi pomeriggio, quindi l'Empoli, il Monza ha rosicchiato due punti, che dire, è stata una bellissima partita, un bellissimo derby, ringrazio a tutti quelli che sono stati in live, veramente, veramente, grazie a tutti, siamo stati tantissimi stasera, veramente, non me l'aspettavo, grazie di cuore, grazie di cuore a tutti, a tutti i tifosi pisani che sono venuti, Cri, Marco, veramente vi ringrazio di cuore, poi vabbè i miei moderatori come sempre, grandissimi, il Pisa che si guadagna un punto e ora giocheremo sabato prossimo, sabato 27, in casa, col Vicenza, sarà una partita fondamentale da portare a casa, Vicenza che sta in più basso di noi, quindi devi portarti a casa i tre punti, se è la favorita devi portarti a casa i tre punti assolutamente, speriamo di vedere un bel Pisa prossima settimana come questo, perché anche questo di stasera è stato bellissimo Pisa, abbiamo sprecato tante occasioni con Marconi, con Palombi che ha preso palo, Palombi che prende il palo, cioè abbiamo sprecato tante occasioni per anche andare sul 2-0 e lo sai, il calcio è così, il calcio è così, se sbagli, 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 poi gli altri dopo ti purgano, quindi ragazzi è giusto così, un pareggio che è tutto sommato è giusto, secondo me, secondo un mio amico che ho sentito di Empoli dice che la vittoria doveva prendere il Pisa, a tabellino sì, però per quel che si è visto, per il gioco, per l'occasione, perché l'Empoli nel secondo tempo è entrata devastante in campo, è entrata devastante in campo, e dal 65esimo in là non c'è stata partita, l'Empoli ha fatto la partita dal 65esimo in poi, che dire ragazzi, un punto è meglio di 0, lo teniamo ben stretto, saliamo a 32 punti, con l'occasione di andare a 35 sabato prossimo, che sarebbero molto molto importanti in ottica salvezza, che ti mancherebbero più pochi punti per poi salvarti, e magari vincendo col Vicenza, stacchi anche la classifica, quelli che sono dietro, quindi meglio ancora, può arrivare ancora prima una salvezza, che dire ragazzi, io vi ringrazio a tutti quelli che sono stati live, gentilissimi, tutti quanti, vi auguro una buona notte a tutti, e mi raccomando, io vi do appuntamento, a domani pomeriggio, ore 15, Milan-Inter, sempre forza Pisa, ragazzi, e mi raccomando. Test al Vicenza, proviamo a salvarci, dobbiamo salvarci, più che altro, poi si vedrà se poi potremmo accedere a qualcosa di più bello, perché io ragazzi, se entrassimo ai playoff, sono convinto che non andiamo in Serie A, però intanto entriamo nei playoff, poi, oh, quel che va, va, il pallone è rotondo, quindi ogni partita va giocata e ogni partita a sé. Spererei che, come obiettivo dato dal Presidente, noi ci dobbiamo entrare, non ci piove. Ragazzi, vi ringrazio a tutti, vi auguro una buona notte, una buona serata, per chi va a letto, domani, non lo so, non fa niente, perché tanto a domenica si lavora. Quindi, ragazzi, che dirvi, buonanotte a tutti quanti, grazie veramente di cuore per essere stati tutti live, e ci vediamo domani con la live di Inter Milan. Un saluto nel vostro buon venere azzurro.